E la vita, tutto può cambiare in pochissimo tempo. Lo sa bene Raffaella Modugno, che nel giro di poche settimane ha visto la sua esistenza modificarsi radicalmente. Se l'avevamo lasciata felicemente fidanzata a Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia con Benedetta Mazza, ora, a pochi giorni dalla fine del reality, la ritroviamo single. Come ci ha svelato lei stessa? Ho bisogno di riflettere? Raffaella Modugno sei stata fidanzata con il calciatore Raffaele Schiavi, ma ora le cose sono cambiate. Che cosa è successo? La storia è finita pochissimi giorni fa, ma sono tuttora innamorata. Sono molto delusa di come siano andate le cose, perché non me lo aspettavo. Mi manca moltissimo Raffaele e tenderei a perdonarlo, ma mi sono presa un po' di tempo per riflettere. Raffaella Modugno perché vi siete lasciati? Ho scoperto sul suo telefonino alcune cose che non mi hanno resa felice. Come ti sei comportata? L'ho affrontato subito. Lui ha riconosciuto lo sbaglio e ora sta facendo di tutto per farsi perdonare. Con chi ti sei confidata? Con mia sorella gemella Rosanna e con le mie migliori amiche, Sara e Sofia. Ti hanno consigliato di perdonarlo? No, assolutamente. Mia sorella, poi, è estremamente protettiva nei miei confronti. Che cosa hai deciso? Sono in una tale confusione che non lo so nemmeno io. Ci sono momenti in cui lo perdonerei all'istante, altri in cui andrei per la mia strada. Pensi che lui si sia comportato così perché tu hai commesso degli errori nel vostro rapporto Raffaella Modugno. Mi domando ancora oggi, che cosa posso aver fatto per meritarmi un trattamento del genere. Sono una persona indipendente. Mi adatto a tutto e tutti. Non capisco davvero che cosa potessi fargli mancare. Come vivi la coppia? Sono una persona fedele? Quello di Raffaele è stato un errore, fatale. Sto valutando. La sua potrebbe essere stata una sbandata. Diamo tempo al tempo dunque, e passiamo al lavoro. Raffaella Modugno come descriveresti l'esperienza di Pechino Express? Unica. Mi ha colpito il contatto diretto con le persone molto povere. Si tratta di gente che non ha quasi nulla, ma quel poco che a te lo offre con il cuore. Sei rimasta delusa quando tu e Benedetta siete state eliminate. Sicuramente la voglia di continuare c'era. Fisicamente eravamo forti e avevamo lasciato a casa le paure. Siamo state sfortunate e Pechino è un gioco in cui conta la fortuna. Raffaella Modugno, che altro conta per vincere Pechino? Non certo bellezza. Essendo due belle ragazze, io e Benedetta eravamo convinte di trovare facilmente dei passaggi. Ma ci siamo dovute ricredere. Spesso. Infatti, in Sud America capita che chi fa autostop derubì il conducente. Suscitavamo diffidenza nelle persone anche se avevamo una telecamera al seguito. Qual è stata la coppia più simpatica? I socialisti, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, NDR, senza dubbio, ma anche gli emiliani, i ballerini Ruichi, Sue Carlos Camizzele Caunga, NDR. E quella più antipatica, invece? La coppia dei coniugi, fornata da Clizia Incorvaia e Francesco Sarchia. Davanti alle telecamere Clizia appariva come una ragazza semplice, diretta e sincera. Ma a telecamere spente, andava dicendo a tutti che non le andavo a genio perché ero socialmente inferiore a lei. Vuoi mandare un messaggio a Clizia? Vorrei ricordarle che la posizione sociale non la rende migliore di me, considerando che, lei, l'ha raggiunta sposando uno che prima era famoso. Passiamo al lavoro. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Voglio iscrivermi a un corso di recitazione. Ho rilavorato tanto nella moda e so che non potrei arrivare più in là in questo. I settore. Il mio sogno nel cassetto, è quello di affiancare Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo. Hai posato per un calendario sexy? Le foto, osè, non ti mettono un po' a disagio? Sul set non mi sento a disagio. Fare il calendario è stato un lavoro come un set e altro. Quando sei al mare ti metti in topless. Mai. Fuori dal set so che potrebbe dare fastidio alle famiglie oppure a coppie di fidanzati che sono in spiaggia per stare tranquilli. Non mi piacciono le mie mani. Qual è la parte che ti piace di più del tuo corpo e quella che ti piace meno? Ho un bel seno? Molti dubitano che sia naturale. Odio i miei piedi e le mie mani. Come hanno commentato i tuoi genitori la tua scelta di posare per un calendario sexy? Sono sempre stati molto severi con me, al punto che in passato non mi permettevano di uscire, ma non ho mai nascosto nulla del mio lavoro. Grazie ai miei racconti hanno cambiato vedute e ora hanno una mentalità più aperta. Anche mio padre, un militare, mi ha rassicurato invitandomi a vivere serenamente la mia scelta. Grazie a tutti.